La Polizia di Stato, con il coordinamento della Direzione Distrettuale Antimafia di Reggio Calabria, diretta dal procuratore Giovanni Bombardieri, sta eseguendo dalle prime ore di oggi diverse misure cautelari e sequestri di beni a carico di soggetti indagati per associazioni mafiose ed altri reati, ritenuti affiliati alle cosche di Indrangheta, Libri e Tegnano De Stefano di Reggio Calabria. Sia a Reggio Calabria che in altre città italiane, i poliziotti stanno eseguendo numerosi provvedimenti restrittivi disposti dal GIP, a carico di soggetti indiziati a diverso titolo e allo stato del procedimento in fase di indagini preliminari, dei reati di associazione mafiosa, estorsione e tentato omicidio, detenzione illegale di armi, detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. Tra le cosche Libri e Tegnano De Stefano, vigeva un accordo spartitorio per le estorsioni da eseguire in alcune aree della città, contestualmente all'esecuzione dei provvedimenti restrittivi e in corso il sequestro preventivo di 11 società riconducibili a imprenditori a cui viene invece contestato il reato di concorso esterno in associazione mafiosa.